magari facendo l'obby otteniamo otteniamo si l'item otteniamo l'uovo no sei serio ma che poi mi chiedo ma dove gli prendiamo dei soldi scusami dobbiamo girare tutta la mappa e poi non c'è il check point in sto mondo cavolo se io muoio devo rifare tutto a piedi e non va bene oh comunque ragazzi io sto pensando ma posizione magari è per lo più lo si può trovare in questa zona mi spiace che siamo in un orario che purtroppo no 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 ok sapete cosa il deserto mi ha fatto un bello scherzetto ma vorrei girare la giungla uno diventa matto oh guarda qua c'è una struttura c'è una struttura è una casa impestata ai è vero è vero che c'è l'uovo quello della dell'arcade c'è un sacco di cose da trovare in questo primo mondo perché ok è un primo mondo ma ci sono tante zone per farti capire parliamo con questo ragazzo cosa mi dice ok devo collezionare cinque fiori va bene sentite ragazzi andiamo a collezionare i fiori eeeh si cambio programma andiamo a prendere i fiori ci penseremo dopo con la coca cola guarda io ho il cola intanto la bottiglia è rispaunata perché purtroppo sono rientrato di nuovo nel gioco ha la gioia e intanto andiamo a prendere i fiori che mancano siamo già a tre fiori perfetto insomma eccolo lì qua il quarto me ne manca solo uno eccolo qua l'ultimo fiore possiamo andare a parlare con il ragazzo che mi dà la chiave l'hai trovato hai trovato tutti i fiori grazie ti bloccherò il passaggio per la montagna e andiamo in cima alla montagna a prendere l'uovo benissimo 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 oh cavolo è un hobby dobbiamo fare attenzione ragazzi niente stamina che qua bisogna essere prudenti ok signori attenzione che qua io e parkour non ci sono più stacce il parkour su brick hill è differente da roblox c'è una leggera forza gravitazionale che ti fa andare più in alto sono serio quindi a volte quando devi fare dei salti praticamente è come se stai avendo un salto raddoppiato e quindi voli più in aria ok ok dobbiamo andare lì dobbiamo andare qua attenzione ce la posso fare non è così difficile ok ok dobbiamo andare là con calma con calma eccoci qui l'ultimo step no no non crediamo ora ultimo step portiamo pazienza che eccolo qui eccolo qui l'uovo preso senza problemi con la minimazione abbastanza fluida congratulazioni hai ricevuto l'overgrown vegetation egg ne mancano 7 vabbè ragazzi auguratemi buona fortuna che andiamo a fare il lobby check point spero che sia spero che ci sia il check point perché io ti giuro che non voglio di respawnare all'inizio ma c'è allora è difficile solo all'inizio perché ci sono i blocchi che ti uccidono ok 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 chi sei tu mi sembra che tu conoscava una o due cose eh si ok è un quiz cos'era il primo il primo rilassato su backshell secondo me H ok cos'è sta cosa qua aspetti per rispondere tanto c'è non è che ho il tempo della vita per finirlo è notte fonda possiamo andare a fare cosa non lo so però ragazzi sono curioso di voler provare questa arcade no è l'ordine dei colori vi giuro giallo azzurro giallo azzurro azzurro giallo azzurro verde l'abbiamo preso e vai congratulation hai ricevuto cabinet buddy maceg ne ho ancora sei uova da prendere ragazzi ragazzi io stavo pensando ma sarà aperto il il templio qua perché magari c'è qualcosa qui dobbiamo aspettare le 5 558 ok quella pedana gli uccide ok ce l'ho fatta devo giocare in prima persona non posso giocare in questa le piattaforme invisibili ok è che ragazzi in concentrazione siamo in un templio e devo fare le cose fatte per bene fino alle 9.36 del mattino per completare la nostra missione no sono salvato per un pelo che senso in che senso scusa aiuto veloce l'ho preso? ho preso si wow e vai abbiamo preso la mummia in silenzio poi perché ricordiamoci quando ci sono i lobby e le cose particolari bisogna stare sempre zitti perchè altrimenti rischio di sbagliare e poi mi incavolo su queste cose allora andiamo a prendere la bottiglia ah eccolo qua se non vi comparino gli oggetti perchè non avete interagito completamente con l'npc nel negozio ecco qua perfetto possiamo fare la york cola wow hai trovato tutte le risorse perfetto buono abbiamo preso la york cola ora mi manca l'uovo apre the big one e quello del quiz maledetto che devo stare di aspettare ore su ore grazie a tutti grazie a tutti